Ciao dalla Fata Madrina, questo video è dedicato allo stile della sposa Curvy con qualche modello che vi propongo per ispirarvi e qualche suggerimento partiamo con lo stile princess, con l'abito ampio, romantico qui un decolleté con un bellissimo fiore che sottolinea un punto vita piuttosto alto per slanciare la figura anche la linea A è ottima per slanciare la figura con in questo caso lo scollo decolleté oppure lo scollo a V che è un ottimo escamotage anche questo per slanciare la figura su gonna ampia, in tulle e punto vita segnato non tocco di colore l'effetto tattoo è gettonatissimo, molto sensuale, romantico e femminile sia in versione con abito un po' più ampio che con abito a sirena romantico, sensuale ma delicato anche quest'abito con profonda scollatura davanti e gonna ampia in pizzo oppure scollatura omerale questo è uno stile tra l'altro che va moltissimo, uno stile molto delicato che amo molto e qui lo vediamo proposto invece sempre con un abito a sirena se vuoi essere più sensuale e provocante una bella scollatura e un bello spacco perché no, oppure l'abito a sirena sempre con profonda scollatura e qui per dare una nota briosa un bel tulle applicato dietro al posto del velo, dietro la testa se invece vuoi essere più strong come immagine è bellissimo quest'abito in paillette dalla profondissima scollatura e spacco provocante oppure questa linea anni 80 scollata a V in pizzo bellissima veramente, se vogliamo usare ancora di più una bella schiena con un pizzo effetto tattoo profondissima è questa scollatura oppure i drappeggi che sono sempre una carta vincente da giocare su un fisico curvy in questo caso ricordano le dive degli anni 40-50 bellissimo quest'abito. Entriamo nel vintage parlando di anni 40-50 qui c'è un abito invece tendenzialmente più sullo stile anni 40 oppure bellissimo questo stile anni 30 con la manichina morbida oppure con uno scollo a cuore una linea sirena un po' più sensuale. Se ami il colore perché non scegliere un abito come questo con dei fiori ricamati oppure qui dove l'organza doppia un tessuto stampato a fiori oppure un tulle preziosissimo con delle fantasie floreali molto bello oppure puoi andare sull'abito minimal ovviamente un abito appunto molto carino entriamo così nello stile minimal con varie proposte come visto prima il monospalla poi due pezzi oppure più classico un abito stile impero con i drappeggi di cui parlavamo prima che sono come dicevo sempre strategici. Se vuoi stare invece su un abito più tradizionale guarda questo con un effetto illusion sul corpetto oppure l'abito corto. Qui abbiamo un tubino più classico oppure più moderno con le maniche con volant molto molto belle ma se vuoi esagerare vai con il pantalone guarda che bello questo insieme lineare ma bellissimo e chiudiamo con lo stile beau chic con le spose che amano questo stile più sciolto e particolare magari anziché il velo per l'acconciatura possono scegliere come in questo caso una coroncina di fiori è uno stile che io amo molto che trovo molto fresco e veramente molto bello e adatto a tutte le fisicità. Concludo come sempre con il mio suggerimento per la sposa Curvy che è quello di slanciare la figura quando il punto vita non è molto definito con un abito stile impero oppure dalla vita alta e ricordate sempre di indossare un reggiseno che regga bene il seno per cui con le spalline. bene se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e condividetelo io mi preparo già per un altro video non so ancora di che argomento tratterà ma nel mio canale potete sceglierne tantissimi vi saluto e alla prossima ciao a tutte